buongiorno a tutti allora giù un bottino Sergio Tacchini da benzinaio perché dobbiamo parlare della gran premio di formula 1 degli stati uniti ad Austin Texas allora andiamo a vedere come è andata perché veramente c'è qua il papiro comunque primo giro subito bellissimo con Hamilton che di cattiveria si prende la prima posizione mettendo dietro le due Red Bull alle loro spalle subito aggressivo Ricciardo su Sainz e proprio all'ultima curva prima del traguardo la McLaren passa la rossa dopo un bellissimo bello durato più o meno tutto il giro comunque la classifica dopo il primo giro vede Hamilton davanti a Bestaffin Perez Leclerc Ricciardo Sainz, Norrie, Tsunoda, Bottas e Gasly da segnalare in partenza la toccata di Stroll con la Tifi con l'Aston Martin che si gira ma poi riparte e il pilota Williams che si lamenta dicendo ma questo dove dove voleva passare dove voleva andare al quarto giro P-stop e Rocon che ha avuto un problema con l'ala anteriore e quindi ne ha approfittato anche per mettere gomma bianca al sesto giro sostituzione dell'ala e cambio gomme anche per la Tifi probabilmente scusate per la toccata con Stroll quello che vi raccontavo un attimo fa all'ottavo giro P-stop anche per Alonso molti piloti delle retrovie stanno anticipando il P-stop ma i primi lo hanno fatto per l'ala lotta Alonso per scelta anche Sainz all'ottavo giro con gomma rossa no scusate Sainz con gomma rossa si riprende la posizione su Norris e adesso andrà a caccia dell'altro pilota della McLaren perché non l'avevano fatto vedere ma anche Norris aveva superato il buon Sainz ma adesso il buon Sainz è on fire le gomme rosse sono andate in temperatura e quindi si sta rilanciando per andare a riprendere Ricciardo che lo aveva sul passato al primo giro al decimo giro P-stop per Sunoda anche lui come Sainz partito con gomma rossa e P-stop anche per Russell quasi in contemporanea quasi 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 all'undicesimo giro P-stop leggermente anticipato per Westhaven e adesso via libera per Hamilton che senza il fiato sul collo dovrà provare a fare l'hammer time eh sì perché sennò poi dopo quando va in boss lui si ritrova dietro un'altra volta sempre all'undicesimo giro P-stop per Norris anche lui sost anticipata diciamo che per le gomme gialle era prevista P-stop intorno al diciassettesimo giro per poi montare la bianca cioè cercare di allungare il più possibile in modo che magari con gomma bianca riuscivi addirittura ad arrivare fino in fondo se cambia all'undicesimo giro le gomme sei praticamente obbligato a fare le due soste sempre all'undicesimo giro Westhaven passa subito Ricciardo e si porta in quarta posizione intanto anche Ricciardo e Sainz vanno a fare il P-stop e vedremo quando usciranno come saranno messi altro tredicesimo giro P-stop per Perez che però mette ancora gomma gialla e quindi sarà sicuramente obbligato a fare una seconda sosta perché gialla gialla dovete sapete benissimo si devono utilizzare almeno due mescole delle gomme al tredicesimo giro P-stop anche per Leclerc che mette anche lui gomma bianca ormai non sono molti i piloti che non si sono fermati e tra questi c'è Hamilton che prosegue e non ho fatto in tempo a scriverlo che al quattordicesimo giro anche Hamilton si ferma mette gomma bianca ma esce alle spalle di Verstappen e adesso è a quasi sette secondi dal pilota Red Bull al quindicesimo giro problemi per Gasly o una foratura ma non sembra oppure si è rovinata la sospensione e quindi è ritiro per il pilota dell'Alfa Tauri peccato peccato al sedicesimo giro ruota ruota Raikkonen Alonso con qualche pezzo che vola via e alla fungine la spunta al pilota Alfa Romeo che ora è tredicesimo e diciamo che Alonso non l'ha presa benissimo però i commissari hanno detto che non c'è bisogno hanno visto hanno notato hanno controllato e ha detto che non c'è nessuna irregolarità però diciamo che Alonso non l'ha presa benissimo Tsunoda al diciannovesimo giro Tsunoda e Bottas passano abbastanza agevolmente Strohle e lo mandano in decima posizione mentre il giapponese sale in ottava e Bottas in nona vediamo se il buon pilota della Mercedes riesce a superare il giapponesino e infatti al ventesimo giro Bottas passa anche su Noda e adesso proverrà ad andare a prendere Norris che però è abbastanza distante ma contemporaneamente uno guida una McLaren l'altro guida una Mercedes anche se le McLaren sono migliorate una cifra la Mercedes è sempre una Mercedes intanto Alonso passa anche alla grande Giovinazzi e sale in undicesima posizione e adesso proverrà a riprendere Raikkonen visto che non ha ancora digerito il sorpasso precedente al ventiquattresimo giro Alonso imbuffalito deve rendere la posizione a Giovinazzi ma è abbastanza imbuffalito perché ha detto non è giusto ho fatto un sorpasso come me l'ha fatto Raikkonen a me e quindi cacchio volete e invece no perché se non gliela restituire erano cinque secondi di penalità con quella classifica al venticinquesimo giro vede Verstappen al primo posto Hamilton secondo Perez al terzo Leclerc al quarto Ricciardo al quinto Sainz al sesto Doris è settimo Bottas è ottavo Tsunoda è nono e Raikkonen è decimo sempre al venticinquesimo giro Alonso on fire su Giovinazzi con il pelota italiano che per ora prova a tenersi la posizione ma alla fine Alonso lo riesce a passare e stavolta senza che ci siano problemi al ventiseisimo giro Vettel passa Russell sale in tredicesima posizione e adesso andrà a caccia a sua volta di Giovinazzi e Alonso naturalmente che gli sono davanti ma non di molto al ventisettesimo giro Pistopper Giovinazzi e quindi via libera per Vetter per cercare di prendere a Ronso ed eventualmente anche Raikkonen che si trova in decima posizione al trentesimo giro nuovo Pistopper Verstappen che quindi fa la seconda sosta vedremo cosa decideranno di fare il Mercedes se rispondere subito o provare ad andare fino in fondo o magari provare ad andare il più avanti possibile per poi avere delle gomme più fresche a fine gara sempre al trentesimo giro Pistopper Sainz per provare a stare davanti a Ricciardo e naturalmente tenere dietro anche Norris è una questione di sfida tra Ferrari e McLaren per il terzo posto nella classifica costruttori visto che Mercedes e Red Bull sono irraggiungibili praticamente salvo miracoli al trentesimo giro Pistopper le due McLaren che si pongono una davanti a Sainz e l'altra proprio alle sue spalle intanto Verstappen è a 17 secondi da Hamilton che però si deve ancora fermare al trentesimo giro Pistopper Leclerc rientra in quarta posizione davanti a Bottas e adesso dovrà resistere al pilota della Mercedes che però si deve ancora fermare al trentesimo giro i piloti che per ora non hanno fatto il secondo Pistop sono Hamilton ci sarebbe Bottas ma non ho fatto in tempo a scrivere che si è fermato per fare a sua volta il Pistopper poi Vettel, Stroll e Mick Schumacher sono solo in quattro praticamente come dicevo al trentacinquesimo giro Pistopper Bottas quindi Leclerc adesso deve pensare solo a provare a prendere Perez ma sarà molto molto difficile è intorno ai dieci secondi da Perez 10 11 secondi più o meno al trentesettesimo giro si ferma anche Hamilton che adesso cede la posizione a Verstappen e si trova più o meno a nove secondi dal pilota della Red Bull però ha delle gomme che hanno sette giri in meno più o meno rispetto al pilota Red Bull quindi sono tanti eh comunque al quarantesimo giro la classifica vede Verstappen primo, Hamilton secondo, Perez terzo, Leclerc quarto, Ricciardo quinto, Sainz sesto, Bottas settimo, Norris ottavo, Tsunoda nono e Raikkonen decimo. Al quarantaduesimo giro Sainz è portato a ridosso di Ricciardo e adesso sarà sfida vera tra i due piloti di Ferrari e McLaren per la quinta posizione. Quarantaduesimo giro ritiro ahimè per Ocon che deve salutare anche lui la gara ma comunque porta la sua macchina ai boss così si evitano problemi con safety car e quant'altro. Al cinquantesimo giro la classifica vede sempre Verstappen davanti ad Hamilton al terzo posto Perez al quarto Leclerc al quinto Ricciardo al sesto Sainz al settimo Bottas all'ottavo Norris al nono Tsunoda al decimo Raikkonen. Al cinquantesimo giro ritirirà anche per Alonso danni al posteriore della sua Alpin mentre Hamilton si è portato a circa 1.8 secondi da Verstappen quindi è lì lì è on fire che cerca di prenderlo. Al cinquantaduesimo giro Vetter passa a Giovinazzi e si prende l'undicesima posizione e adesso proverà ad andare a caccia dell'altra Alfa Romeo di Raikkonen. Al cinquantatresimo giro Raikkonen perde letteralmente il controllo della della sua Alfa Romeo praticamente in curva va proprio lateralmente fuori mezza testa coda finisce fuori pista eccetera non sbatte contro le barriere eccetera finisce solo fuori pista ma ora che rientra è in dodicesima posizione e butta via il suo punticino che si era conquistato. Al cinquantacinquesimo giro Bottas attacca Sainz per la sesta posizione ma per ora il pilota della Ferrari riesce a restare davanti al pilota della Mercedes. Purtroppo al cinquantasesimo giro Bottas alla fine passa Sainz e si prende la sesta posizione mentre Max Verstappen tiene a distanza Hamilton per poco più poco meno di un secondo quindi Hamilton prova ad avvicinarsi prova quando è in zona DRS è sempre a un secondo e uno un secondo e due quindi non può usare DRS e alla fine Verstappen vince il gran premio degli Stati Uniti con un secondo e 333 millesimi su Hamilton al terzo posto abbiamo Perez al quarto Leclerc che ci ha provato ad avvicinarsi a Perez ma ha recuperato giusto 3-4 secondi non di più e quindi Perez ha potuto comodamente portarsi a casa il podio per la felicità di tutti i tifosi che sono andati a vederlo visto che Messico e Texas sono abbastanza vicini al quarto posto abbiamo Leclerc al quinto Ricciardo al sesto Bottas al settimo Sainz all'ottavo Norris al nono Tsunoda e al decimo Vettel che ringrazia sentitamente l'errore di Raikkonen e si prende il punticino detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio bel gran premio anche se chi ha reso un attimino allegra la la gara sono stati quelli tra l'undicesimo al quattordicesimo quindicesimo posto e quelli tra il quinto e l'ottavo posto diciamo quinto nono posto perché Hamilton e Verstappen si sono inseguiti a distanza e non c'è mai stato un tentativo che fosse un tentativo se non in partenza di sorpassarsi la partenza è stata stupenda di Hamilton che è riuscito a mettersi davanti alle due Red Bull ma poi purtroppo per lui ieri o meglio l'altro ieri le due o meglio la Red Bull di Verstappen si è dimostrata più veloce rispetto alla Mercedes di Hamilton e quindi vola il il buon Bersi vola però è ancora lunga finisce a dicembre il il mondiale di Formula 1 e ne vedremo veramente delle belle tra l'altro in questo momento vista la situazione eccetera basta un ritiro di uno dei due piloti perché la classifica possa scombinarsi completamente o puntare decisamente verso uno dei due tenendo conto dell'affidabilità della Mercedes io se fossi il Red Bull mi preoccuperei un attimino perché ripeto le Mercedes capita una volta ogni 40 anni che finiscano tutte e due la gara le Red Bull sono ottime anche loro eccetera eccetera però l'affidabilità è un attimino un poco è di poco ma non è identica vedremo cosa succederà io intanto vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao